e guardiamo oggi mullet mad jack vediamo come siamo sempre nello steam next fest demo di un gioco e la demo probabilmente sparirà e come vi ho già detto in tante altre occasioni porta avanti su youtube poi oltre al termine di così li distribuiamo un pochino no no vediamo cosa vuol dire non so qualunque cosa sia lo scopriamo ok vediamo un po uspiti mamma mia bello mazzo a seguire le porte gialle ok kick or fire mouse 2 ok ah perché la nostra vita è legata a quanti particolarissima ok 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 No, 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 no. No, 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 no. Non riesco a capire bene come fare questa cosa. No, no, no. Got it. You can special. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Va bene. Direi che questo è il gioco, signori, ce l'abbiamo. È abbastanza chiaro quello che c'è da fare. È assolutamente da wishlist direi proprio di sì. Quindi al prossimo video e ciao. No, no. No, no. 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 No.